Intonazione, ricordatevi la quarta posizione per favore. Ascoltiamo le viola. Ascoltiamo le viola. Da capo, però prima di fare il da capo, battuta 1, 2, 3, 4, 5, 6, prima di A, un po' più lentamente, i primi secondi per piacere, dalle sincopi terzine. 3, 4, 1. No, è terzina, ragazzi. No, e noi facciamo terzina. Non è il quartino, attenzione. 3, 4, 1. Teniamo ferma l'ultima nota legata. Dobbiamo sempre pensare terzina, ok? Loro hanno sempre i tempi forti. Cambiano su ogni semimimino. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Stesso punto d'arco, è anche là in fondo, altrimenti andiamo fuori. 3, 4, 1. Togliamo la legatura per studio e facciamolo sciolto una volta. Tim tam, tim tam, tim tim, tim tam, 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 3, 4, 1, 2, 3. Ancora una volta. In tempo sciolto. 1, 2, 3, 1. Solo primi violini. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Una volta. 3, 4, 1. Siamo piano, piano, piano. 1, 2, 3, 1. Vi apri, aspetta, aspetta. Non è così così? 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1. Si, si, tolla. Il levare, il si è binario. 1, 2, 3, 4, 1. No. . 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 Adesso facciamo come scritto con pochissimo arco tenendo corta la nota legata. . . . un, due, tre, e quattro ok, leggero, leggero, leggero con i secondi, grazie stesso punto un, due, tre, quattro, un ok, dobbiamo stare attenti alla fine, concentrati fino alla fine perché ci rilassiamo quasi come si dice ormai l'abbiamo fatto, no, quello vi frega che c'è l'accento forte, sullevare e nella più terzina ultima volta, un, due, tre, e quattro, uno ok la parte esterna legata, la parte interna è sciolta, insieme ok, un, due, tre, e quattro adesso invertiamo le cose, la parte esterna è sciolta e la parte interna è legata un, due, tre, e quattro questo, adesso è tutto legato, tutti quanti come scritto un, due, tre, e quattro alla fine non siamo mai insieme, non curiamo noi di, 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 ok perché per loro è delicatissimo questo, ancora un, due, tre, e quattro eccolo qua da capo tutti quanti grazie grazie a tutti grazie a tutti è importante accorgersene da capo grazie a tutti 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 a Bologna grazie a tutti 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 1, 2, 3 1, 2 molto l'elemento usiamo mezzo arco non andiamo a tallone per favore perché si apre troppo il suono al stesso punto 1, 2, 3 non ralentatevi 1, 2, 3 Il levare è già nel tempo successivo, eh? Voi avete bisogno di rifare da capo tutto, no? Per la ripresa? O posso andare avanti e fate copia e incolla? Andrea? È sparito? Andrea, dove sei? Ho capito. Noi voglio farla stamattina, la filata. Allora, quando si spiega la filata, oggi senza. Almeno del primo movimento. Ci proviamo, dai, da capo. Sì, sì, sì. Proviamo a fare una filata del primo movimento, ragazzi. Sì, sì. Sì, sì. Sono un po' troppo lunghe, un po' più separate, per favore, queste. Allora andiamo avanti, facciamo la filata. Proviamoci. Ascoltatevi, l'ascolto è la cosa principale. Allora andiamo avanti, facciamo la filata. 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 Direttamente la 104. Solo viole per piacere, una seconda, 105. Ok, 104 per lo sviluppo. 100 con battuta 104 ce l'avete? In battuta batto, non è una fuori. Corriamo. Corriamo. Il ritmo. Ragazzi, non corriamo, ci facciamo solo male. Vi accorgete che correte. Anzi, vi fate perdere dall'ansia. È già abbastanza difficile. assicuriamo la rendiamo ancora più difficile, è impossibile. Ancora. Ancora. Violette, che vi succede stamattina? L'avete sempre fatto bene? Sì, mi sono fatto 111, 12, 112, avete i numeri? No. Sì? Bravi. Dopo Domodossola sono 4, 7, 8, la nona di Domodossola. Senza il battere, cominciamo solo dalle violi. Voi non suonate il battere per adesso? Ok? Primi e secondi, grazie. La decima di Domodossola, primi e secondi. Non abbiamo una buccanetta condotta dell'attore, ora è legato. O, grazie, scusami. O, o. Ok? Con questa delicatezza. Benissimo, preciso. Tutti quanti, Domodossola, dal tema nostro. O, grazie. Come si, questo è un'ottima. Questa è un'ottima. Non è nulla. È un'ottima. È un'ottima. Non è nulla. Non è nulla. Allora, più scegliere, un'ottima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 5, 8, 9, l'undicesima di Empoli. 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 1, 2, 5, 9, l'undicesima di Empoli. 1, 2, 5, 8, 9, l'undicesima di Empoli. 1, 2, 5, 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 9, l'undicesima di Empoli. 1, 3, 5, 9, l'undicesima di Empoli. 1, 2, 6, 9, l'undicesima di Empoli. 2, 5, 10, l'undicesima di Empoli. Grazie. 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 Grazie.